Gli esoscheletri rappresentano una delle tecnologie più innovative del nostro tempo, un'invenzione che sta trasformando profondamente settori come la medicina, l'industria e la vita quotidiana di molte persone. Ma cosa rende questi dispositivi così speciali da poter cambiare il futuro? Un esoscheletro è essenzialmente un dispositivo robotico indossabile progettato per fornire supporto, forza e mobilità assistita. La struttura esterna, rigida o semirigida, è dotata di sensori, attuatori e sistemi di controllo che lavorano in sinergia con i movimenti del corpo umano. Questa tecnologia si divide in due categorie principali, esoscheletri passivi, che funzionano senza motori o batterie e offrono supporto meccanico per ridurre lo sforzo fisico. Ed esoscheletri attivi alimentati da motori e batterie per amplificare i movimenti dell'utente. Ma come funzionano gli esoscheletri attivi? La chiave sta nei sensori integrati, capaci di rilevare i movimenti e l'intenzione dell'utente, traducendoli in comandi per gli attuatori. Alcuni dei modelli più avanzati utilizzano l'intelligenza artificiale per adattarsi dinamicamente alle necessità dell'utilizzatore, migliorando precisione ed efficienza. Ogni componente è studiato per lavorare in perfetta armonia, i sensori monitorano parametri come forza e posizione. Gli attuatori trasformano l'energia elettrica in movimento mentre le unità di controllo elaborano in tempo reale i dati raccolti rendendo l'esperienza d'uso intuitiva e naturale. Il potenziale degli esoscheletri si esprime in una vasta gamma di applicazioni. In campo medico, per esempio, questi dispositivi stanno rivoluzionando la riabilitazione motoria. Pazienti che hanno subito ictus, lesioni spinali o soffrono di malattie degenerative come la sclerosi multipla possono recuperare mobilità e indipendenza grazie all'utilizzo di esoscheletri progettati per la deambulazione assistita. Nei centri di riabilitazione, queste tecnologie riducono i tempi di recupero e offrono nuove speranze a chi pensava di non poter mai più camminare. Nel settore industriale, gli esoscheletri stanno diventando un prezioso alleato per i lavoratori. Grazie al supporto fornito da questi dispositivi, è possibile sollevare carichi pesanti con minore sforzo, riducendo lo stress muscolare e prevenendo infortuni. Grandi aziende come Ford e Toyota stanno già sperimentando l'uso di esoscheletri nelle loro linee produttive, con risultati promettenti sia in termini di efficienza che di sicurezza sul lavoro. Anche il settore militare sta investendo in questa tecnologia, sviluppando esoscheletri in grado di aumentare forza e resistenza dei soldati. Questi dispositivi permettono di trasportare carichi pesanti su lunghe distanze e migliorano l'efficienza nelle operazioni sul campo, offrendo un vantaggio strategico significativo. Ma non è tutto. Gli esoscheletri stanno iniziando a entrare anche nella vita quotidiana. Per esempio, esistono modelli progettati per assistere persone anziane o con mobilità ridotta, migliorando la loro qualità della vita e promuovendo una maggiore indipendenza. In ambito sportivo, invece, gli esoscheletri potrebbero essere utilizzati per migliorare le prestazioni degli atleti o prevenire infortuni durante allenamenti intensi. Nonostante questi straordinari vantaggi, ci sono ancora alcune sfide da superare. Il costo elevato rappresenta uno dei principali ostacoli alla diffusione su larga scala, mentre l'autonomia delle batterie spesso limita il tempo di utilizzo continuativo. Inoltre, è fondamentale migliorare il comfort e l'adattabilità degli esoscheletri, affinando la progettazione per soddisfare le diverse esigenze degli utenti. Fortunatamente, il progresso tecnologico sta aprendo nuove possibilità. L'utilizzo di materiali avanzati, lo sviluppo di batterie più durature e l'integrazione di sistemi di intelligenza artificiale stanno rendendo gli esoscheletri sempre più leggeri, efficienti ed economicamente accessibili. Si prevede che il mercato globale di questi dispositivi crescerà esponenzialmente nei prossimi anni, portando con sé opportunità inaspettate in ambito medico, industriale e personale. In conclusione, gli esoscheletri rappresentano una delle innovazioni più affascinanti e promettenti del nostro tempo. La loro capacità di migliorare la vita delle persone, prevenire infortuni e potenziare le capacità umane è solo all'inizio. Con il continuo avanzamento della tecnologia, possiamo solo immaginare quanto lontano potranno spingersi queste straordinarie invenzioni.